Allora dove c'è la cosa? Allora, non mi interessa. 13. No? Ma non mi interessa. Non mi interessa. E l'avvocato come? Sconvolto, presto. Scioccato, scioccato, scioccato. in banca pure ma devi andare in banca nei conti come sei? sotto Don Provo, sopra dei miei sono andati pure all'alto sono andati tutti l'anno di documentazione io ho avuto i documenti però è un avvocato mi si chiama l'avvocato e questa è una cosa